Oggi pomeriggio siete qui per questo incontro, è il secondo di una serie di dieci incontri organizzati, curati da Daniela Lancioni, che ringraziamo molto per essersi occupati di questo. In questo secondo appuntamento, curato da Daniela Lancioni, abbiamo la fortuna, l'onore e il piacere di avere un grande artista, Sandro Chia, lo ringrazio molto di essere venuto, di aver accettato questo invito. Sono certo che sarà molto interessante sentire la sua opinione, i suoi commenti, i suoi ricordi sugli anni 70, su quello che era la vita artistica, la vita culturale degli anni 70. Forse pochi sanno che Sandro Chia, proprio negli anni 70 o nel 70, lui ce lo spiegherà, ce lo dirà, scende, cala da Firenze verso Roma, dove poi rimane. Allora oggi Sandro è considerato soprattutto come pittore, allora credo fosse anche altro, cioè faceva installazioni, faceva anche altre cose. Stasera per parlare con lui c'è Daniela Lancioni, appunto, che come ho detto ha organizzato tutta questa serie di incontri, e Denis Viva, che è curatore al Museo Mart di Rovereto, uno storico dell'arte che si è occupato proprio dei temi di tutto quello che riguarda gli anni 70 in Italia. Grazie e a Daniela Lancioni. Grazie Presidente, grazie di essere venuti e grazie a Sandro Chia e a Denis Viva. Tutti conoscete, credo molto bene, il lavoro di Sandro Chia, la sua passione per la pittura, i suoi colori. Le abbiamo fatto forse un piccolo rispetto oggi a preparare un PowerPoint, come si dice, molto in bianco e nero, un po', come si dice, austero. Lo pregheremo di parlare di questo lungo periodo, sono dieci anni, come diceva il Presidente, Sandro Chia arriva a Roma nel 1970 e prima dell'esploit della transavanguardia realizza una quantità considerevole di mostre, di esposizioni e di lavori. L'interrogativo è considerarli come un'introduzione al suo lavoro, che possiamo considerare la maturità. Sono lavori, dal nostro punto di vista, molto importanti e molto significativi, nell'ottica anche di una storia dell'arte che cerca di considerare il lavoro dell'artista nella sua complessità. Ci permettiamo di dire che forse le sue opere, in qualche modo le sue opere che amiamo, che conosciamo, i suoi quadri, i suoi dipinti, si sostanziano del passato di queste altre opere sulle quali speriamo abbia la generosità oggi di parlarci. Pronti via! Siamo alla salita, un omaggio a Gian Tommaso di Verani, che è stato un grande gallerista della Roma di quegli anni. La curiosità iniziale, ma parla di quello che vuoi, prima di raccontarci un po' questo lavoro, perché scegli Roma e che cosa significava, come arrivi alla salita, che è appunto la galleria di Gian Tommaso di Verani, la prima dove Sandro Chia fa la mostra. Arrivo a Roma tornando da una serie di vagabondaggi in Europa, in Asia. All'epoca era abbastanza comune andare in autostop, girare così come succede in America, a Kerouac, on the road, eccetera. C'era questa mentalità e faceva parte della cultura e anche era forse l'unica maniera accessibile, perché i denari non erano tanti. Si viaggiava molto utilizzando passaggi e spesso l'itinerario, cioè la meta, era dettata dall'incontro casuale, dalla macchina che passava, che ti trasportava in un certo luogo piuttosto che un altro. Cioè c'era un'idea generale, la direzione doveva essere verso oriente, però se era un est, nord-ovest, eccetera, tutto dipendeva un po' dal passaggio. E questo veniva fatto, poi creava anche delle comunità di persone che si trovavano per strada, e generalmente la selezione di queste persone veniva fatta dalla determinazione, dalla scelta abbastanza estrema ed avventurosa di intraprendere il viaggio con quelle modalità. E quindi c'era anche una fratellanza tra coloro che si incontravano e così via. Più ti allontanavi dall'Europa, più tutto questo assumeva anche delle caratteristiche ancora più complesse, perché cambiava la lingua, cambiava spesso la religione, eccetera. Cioè aveva anche un suo volato un po' pericoloso, perché sarebbe potuto succedere di tutto. Però io ero abbastanza attrezzato, perché sono sempre stato un po' grosso, un po' robusto. E quindi mi sono difeso abbastanza bene, no? E a un certo momento, tornando da questi viaggi, mi sono trovato a Roma, e ho visto un cartello dove si diceva Fittasi, questo era in Trastevere, mi informai, era un prezzo che potevo pagare, e mi trovai in questa stanza, una stanza, con una vista su un cortile, e non avevo un letto, avevo solo un materasso, e lì trascorsi mesi, in questa stanza, cioè tutta un'estate e parte dell'autunno, facendo dei disegni, no? E non sapevo niente dell'ambiente dell'arte, siamo appena dopo il 68, perché il 68 io ero in Francia, poi sono stato anche avuto dei problemi con la legge, eccetera, insomma, sono stato arrestato per motivi scemi, diciamo politici, no? Però poi mi hanno liberato, perché non avevo fatto niente di male, no? Questo è a Lille, nord della Francia, tornavo dall'Olanda, tornavo dall'Olanda e con un tipo che io gli avevo già suggerito, tagliati i capelli, tagliati i capelli, questi invece erano i capelli, insomma, ci hanno fermato, loro pensavano, erano proprio il periodo torrido della rivoluzione del 68 a Parigi, lui non si era tagliati i capelli e alla frontiera i francesi hanno pensato che io fossi Cohen-Bendee, che non aveva nemmeno lontanamente la somiglianza e che il mio passaporto fosse falso. E lui che fosse un noto criminale che veniva dall'Irlanda ricercato perché apparteneva all'Ira, eccetera, eccetera. Ci vogliono 64 giorni perché i giudici francesi determinassero che tutto ciò non era fondato e quindi però mi condannarono per vagabondage, il che mi faceva molto chic. Infatti non era interdetto il mio rientro in Francia per molti anni, anche se poi viaggiavo, eccetera. Poi al momento che dovevo fare la mostra alla Galleria d'Arte Moderna a Parigi e il ministro della Cultura, che era Long, Messier Long, a lui feci presente che ero espulso dalla Francia, perché non ci posso credere, non ci posso credere, vale cruare, eccetera, eccetera. e poi è andato a verificare e dice, sì, è vero. E ho detto, ma come si può risolvere? Guarda, si risolve facilmente perché ti do la legione, non la legione d'onore, però un tipo, mettere, desare, elettere, ti do questo titolo e si cancella tutto quanto. Dice, ma facciamo questo, così mi sono beccato un titolo. Ho fatto la mostra e ho cancellato questo errore giovanile. In ogni caso, sono a Roma, trovo questa affittasi, trascorro qualche mese facendo dei disegni, non sapevo niente dell'ambiente dell'arte, non sapevo la differenza tra Campo dei Fiori e Piazza del Popolo. Non sapevo che a Piazza del Popolo gli artisti all'epoca si riunivano e lì c'erano due luoghi canonici, uno era Rosati e l'altro era una vineria che si chiamava Buccone. Ci ho messo qualche mese a capire che quello, perché la mia ragione per cui ero a Roma era perché volevo fare l'artista e volevo incontrare gli altri artisti, volevo far parte di un mondo che sognavo, non avevo informazioni, non sapevo neanche i nomi di questi artisti, però sapevo che c'erano e mi c'è voluto un po' di tempo perché odiamo chiedere informazioni, leggere le guide, dove questa informazione probabilmente era già a disposizione, però mi rifiutavo di fare questo, volevo incontrarvi, diciamo, per caso, girando, poi alla fine sarei incappato in questo... E così successe, mi trovavo in Piazza del Popolo e incontrai, c'era Gino, De Dominicis, poi c'era Prini, no? E poi Cunellis, però Cunellis era troppo serio per me e invece con gli altri feci subito Comunella, poi c'era Mimmo Germanà, no? e venne a sapere che esistevano le gallerie, cioè gallerie importanti, internazionali, una era all'attico, l'altra era la salita. All'attico la situazione era molto, molto aristocratica, no? Tenuta ad altissimo livello internazionale, quasi impenetrabile, da un signor Sargentini che aveva un incredibile stile ed era veramente conosciuto internazionalmente, parlava l'inglese, eccetera, e la galleria era molto famosa, forse non riuscimmo a comunicare troppo bene con Fabio Sargentini e nella mia insubordinazione, che già allora era forse ancora più accetturata di oggi, dissi va bene, non vado da lui, vado dall'opposto, che era Liberani, che invece era un vecchio signore con uno stile completamente diverso da quello di Sargentini, però aveva fatto delle mostre straordinarie, per esempio la prima mostra di Richard Serra, poi aveva lo Savio, Paolini lavorava con lui, di Richard Serra al mondo, e anche di Giulio Paolini, e anche di Giulio Paolini, quindi grande prestigio, e poi tra l'altro la galleria mi sembrava, cioè una cosa che poi ho cercato di imitare nelle case che poi ho avuto, gli studi che ho avuto, perché era veramente un cubo grigio, grigio cemento, e questo era in via Gregoriana, e non era troppo grande, però perfetta, e allora pensai, andai da questo signore, mi incontrai con lui, e gli spiegai quello che avrei voluto fare, prima di tutto voglio fare l'artista, il lavoro non so quale sia, anche se venivo dall'Accademia delle Belle Arti, però la pittura era improponibile, era proibita, cioè te la dovevi tenere per te, era come un vizio segreto, un peccato che non poteva essere confessato, la pittura, c'era l'arte concettuale, quindi la proposta sarebbe dovuta essere arte concettuale, però non volevo rinunciare alla tela, perché per non offendere i mezzi legali e canonici della pittura, che sono la tela, i colori, eccetera, cioè ridotti al minimo, però non negati, e allora mi venne in mente che all'origine dell'immagine c'è la proiezione, l'ombra, pensai ad una fonte di luce al centro di questo cubo grigio, se vi annoio ditemelo, No, ci piace moltissimo! Ho messo questa luce al centro e poi quattro oggetti che stavano in un rapporto, all'epoca definivo di in falsa analogia, cioè un'analogia apparente, come per esempio un uccello e un aereo, se li proietti sembrano abbastanza simili, e poi c'era una fiala, poi c'era un... Due fiale e una rosa di plastica. E una rosa di plastica, e queste cose si, per effetto della proiezione, si deformavano e cambiavano anche di misura e di proporzioni e di forma, in maniera da quasi somigliare l'una con l'altra, cioè era una forma di spaisamento, no? E io rilevavo con la matita sulla tela i contorni di questa ombra, e quindi, cioè, in un certo senso c'era un'allusione alla pittura, l'idea della camera oscura, l'idea leonardiana, anche della proiezione, di ribaltamento dell'immagine, l'idea della prospettiva, la nascita del disegno dall'ombra, dall'ombra si è certo, cioè c'è tutta una letteratura volendo sull'argomento, e quindi ero ancora, secondo la mia strategia un po' subdola, no? Ero nell'ambito della pittura, senza dirlo, senza, no? senza dovermi esporre, poiché si trattava di un'esposizione, senza dovermi esporre alla critica che sarebbe stata una condanna a morte, perché dipingere all'epoca era, c'era la pena di morte, e quindi in maniera surrettizia e sotterranea, e tu che mi piaceva molto, no? Perché ero anche stato in carcere, quindi ero un fuorilegge, e mi piaceva molto questo atteggiamento, la mostra non andò benissimo, poi all'epoca non c'era economia dell'arte, le gallerie erano più o meno no profit, erano delle associazioni culturali, se mai succedeva di vendere un'opera a poche lire, era festa per tutti, eccetera, eccetera, però nessuno si immaginava o si aspettava di vendere, ecco, questo è importante sapere, che negli anni 70 il sistema dell'arte era un sistema basato sulle buone intenzioni, anche gli artisti più conosciuti vendevano a prezzi veramente abbordabili, no? e i giovani, poi, Liverani era famoso per catturare intere mostre e dare niente, anzi ti chiedeva magari dei soldi, perché c'era da pagare la luce, la segretaria, poi era una segretaria che poi metteva i chiodi, faceva tutto, non è negli anni 80, invece, ma che mai lo è stata per un po', non lo so se... la segretaria è stata... la segretaria è stata bella, allora lo sapeva... cioè, tutto veniva fatto in maniera molto sobria e molto povera, no? però l'entusiasmo era molto alto, perché c'era l'erotismo di essere artista, di essere riconosciuto come artista, perché se è una dichiarazione personale che puoi fare a tua madre, ai tuoi parenti, e con un sorrisetto accettano l'idea che tu ti senti artista e tu sia artista, però quando lo vai a dire in pubblico non lo sei, cioè, bisogna che ti guadagni anche statisticamente, ci vuole una specie di piccola maggioranza di persone che siano d'accordo con te, che ti dichiari artista, allora in quel momento diventi artista e fare la mostra in galleria voleva dire creare una complicità con delle persone sconosciute, non necessariamente gli amici, i parenti, eccetera, ma persone altre che a un certo momento cominciavano, quello è un fenomeno particolarmente interessante proprio dal punto di vista anche letterario, quando vedi che vieni guardato in un'altra maniera, prima sei il ragazzo che sei, il cittadino, la privata persona che sei, poi a un certo momento cominciano a guardarti da artista e ti chiamano anche, cioè si rivolgono a te e cambia il mondo. E questa dualità un po' fa anche parte di come si struttura il tuo lavoro, cioè tra una cosa e un'altra che è il doppio, che è... No, il volere è essere artista, cioè tutto il resto, la pittura, la non pittura, la scultura, l'assenza di scultura, concettuale, minimale, qualsiasi cosa tu faccia, la cosa che penso sia più intensa al centro di tutto il lavorio, no, spirituale, fisico, manuale, sia questo desiderio di essere artista, che è una forma di, se vogliamo, di santità civile, non so come dire, però è una cosa che ti caratterizza e ti sarà di conforto, non importa come vada la tua vita, no, cioè ci sarà sempre questa costante, quest'identità che è un legame che attraverso il lavoro, certamente il lavoro è importante perché crea e genera consenso, no, o anche dissenso, però nessuno mette in dubbio che tu sia artista, puoi essere un cattivo artista, però sempre artista sei, no? Quindi c'è identità tra l'uomo, la persona e l'artista, cioè c'è un'istitura. Sì, l'artista è al di là della persona, non sei più una persona, secondo me, nella mia immagine, credo che all'epoca ci fosse un non detto, ma riconosciuto, e un concetto, un anelito, no, è in comune con tutta una generazione di persone. Si dice sei un artista, non si dice... Ma infatti l'arte minimale che cos'era? Una non arte, non c'era niente, l'oggetto... Sono artisti straordinari, infatti dico artisti, non dico pittori, non dico scultori, no, artisti puri che producevano cose talmente minimali che erano vicine allo zero. Cioè mi ricordo una delle opere più straordinarie dei Miloprini, che è sulla negazione del lavoro, cioè sottrae, non aggiunge, non produce, che nell'organizzazione di questa mostra fatta all'attico 24 ore su 24, che è stata un po' una svolta, eccetera, lui fece un'opera, non aveva l'opera, e tutti quanti aspettavamo, ormai dopo dieci minuti ci sarebbe stata l'inaugurazione, e lui doveva presentarsi con un'opera, con qualcosa, e lui si mise alla macchina da scrivere, c'era ancora la macchina da scrivere, quella un po' vecchio stile, e battendo sui tasti fece con una O, e poi tornò indietro con una virgola, fece un ritratto di Napoleone pazzesco, veramente somigliante, e questa era la sua opera, cioè, bisogna immaginare una pagina nel Bicard e con al centro una O battuta a macchina e una virgoletta sopra che era un ritratto veramente, si chiamava Napoleone, per dire, ecco, e questo è molto vicino allo zero, è molto vicino al nulla, ma fa della persona che produce questo nulla un artista, e questa era l'opera d'arte per eccellenza, no? Quello di creare un artista come se ce ne fosse bisogno, infatti non ce ne sarebbe nessun bisogno, un altro artista a che serve? Però, in deroga, come eccezione, si cerca di presentare come tali e eventualmente guadagnarsi il titolo e poi mantenerlo, perché non è una volta per tutte. Queste ombre sembrano, queste ombre che tu vai segnando con la matita l'ultimo giorno forse della mostra, così almeno si racconta e il gallerista voleva qualcosa da finita la mostra qualcosa che rimanesse, no? E naturalmente smontata la mostra se le tele fossero rimaste bianche non sarebbe rimasto ben niente, ma lui nella sua voracità volle che che tu tracciassi. che tracciassi. Comunque sembrano, quest'ombra è un'espansione, una magnificazione dell'oggetto in qualche modo, cioè l'oggetto diventa più misterioso, l'ombra con tutte le accezioni, ma anche più, ma anche una cosa monumentale. Poiché non volevo che rappresentasse niente, quest'ombra doveva rimanere frammentata e quindi irriconoscibile rispetto all'intero di cui il frammento è frammento. E come si può notare le tele erano quattro, tutte uguali, io rilevavo l'ombra sulle quattro e poi separandole non c'era più niente di riconoscibile perché si trattava di segni minimali e questo non piacque molto al gallerista, però conosco qualcuna delle opere infatti che sono rimaste da un collezione, insomma, composte, qualche un collezionista. Ah sì, sì, perché poi se le dovevano comprare a pezzi, ricostruirle, certo? E su ciascuna tela c'è il timbro che ho scritto frammento d'ombra, una specie di così deriva e mi piacque molto il timbro andai in via della scrofa, c'era un negozio di timbri che ancora e non sapevo come utilizzare questa, perché stava nel mio itinerario la piazza del popolo andavo a trastevere, passavo sempre da questo negozio di timbri e pensavo ma qui bisogna che ci faccia qualcosa e non sapevo cosa. Poi c'è il timbro e mi dicevo ecco cosa ci faccio e mi facci fare questo timbro il frammento d'ombra che me l'ho detto a credito e credo che non l'ho mai più pagato lui non è un altro ma lui è arrivato dopo un pochino dopo con la Porsche però sei arrivato io sono la Porsche il grande ben arrivato ma volevo chiedere il titolo è un omaggio al libro di Artaud e il teatro tra Artaud e Borges le teatre sono dubbi il teatro è il suo doppio ma certo ma le letture dell'epoca molto disordinate e malissimo digerite erano includevano molte cose molto eterogenee e leggevo una pagina e la cosa era talmente intensa che non potevo più andare avanti però già avevo capito tutto il libro e quindi passavo ad un altro libro che non c'entra in avanti con il primo apparentemente ma io facevo sì che l'uno fosse collegato all'altro cioè ognuno di noi credo ma io in particolare ero come un campo di battaglia dove le cose si scontravano e alcune cose rimanevano permanevano per motivi chissà che cosa per quali motivi non si sa ma certamente non c'era una razionalità non c'era una sistematizzazione era tutto molto molto erano accadimenti e c'erano dei rimassugli dei resti di una battaglia e quello veniva raccattato e eventualmente memorizzato la battaglia è un altro dei temi sul quale ti volevamo così intrattenere queste battaglie che ogni tanto compaiono in questi anni settanta tra due poli porte che sbattono pugili che fanno a botta come il canguro ma insomma abbiamo un piccolo catalogo di lotte in qualche modo intraprese tra due polarità che a volte sono uno la magnificenza forse dell'altro come in questo caso a volte si contendono il campo comunque da questo momento in qualche modo l'idea della copia diventa sulla quale poi insisterà molto Mario Diacono che forse presto tu conosci a Roma e con cui diventi no certo facciamo insieme una rivista ci incontriamo per caso e lui veniva dagli Stati Uniti era vestito veramente come Allen Ginsberg cioè aveva lo stesso cappellino che è un'opera che feci con lui con lui per la rivista E.O titolo che trovai io E slash O quindi E.O o questo o una o è una congiunzione o un'opposizione e mi piacque molto il segno eccetera questo era il titolo feci un'opera che era un bamboccio un bambino un non cioè un infante che reclinato in un certo modo se ne vede la faccia e poi si vede e poi Pio Monti ultimamente ha fatto una t-shirt con quell'immagine sento a parlare delle ombre una cosa incredibile che io non pensavo che tu parlassi del lavoro del settantuno bellissimo bellissimo quel lavoro lì e io ti metto scritto così le mie notti insonni proprio e poi hai scritto sul muro allo studio e so che sei stato te perché sta lassù in cima l'unico che ci va a arrivare è lui e lo sai cosa scrive hai scritto di tutta l'avanguardia ti sei in trans no tu non sei più un artista in trans sei un artista in trans adesso adesso in trans allora a proposito dell'ombra io mi sono scritto nelle mie notti così insonni popolati da famigli va beh leggilo no mi sono scritto alcuni appunti sull'ombra che non sono mie ma colette in questi libri che prendo ecco ti posso dire alcune citazioni ma guarda è combinazione ho scritto questa cosa non perché sapevo che tu facevi questa cosa ma perché è una combinazione è un caso ti posso dire alcune citazioni sull'ombra allora la vaga ombra di un'idea tiene in piedi una vita la notte è l'ombra della terra è difficile dare un giudizio su di un'ombra ciascun modo proietta la sua ombra i poeti sono gli spettri delle ombre la parola è l'ombra dell'azione siamo polvere e ombra il sogno è l'infinita ombra del vero dove c'è molta luce c'è ombra l'ombra più nera l'ombra non è una semplice assenza verrà la grande ombra l'ombra è la rappresentazione questa è bella l'ombra è la rappresentazione dicotomica del due perché uno più uno l'ombra tutte le ombre parlano del sole sottovoce carino l'ombra conosce l'anima come meglio di Daniela appena le ali si apriranno al sole la mia ombra sulla terra era una tartaruga siccome c'è la galleria avanti la fontana di tartarughe allora così questa proprio va bene no? e praticamente come si dice pagalmente sopra di tartaruga c'è una lumaca che fa una lumaca sopra di tartaruga due lenti e contatto appena di questo battute date a mercanti in conto e privo ai sentimenti delicati ordine nell'ombra tramare i morti vagano come ombre nelle silenziose a lieve scedo qualcuno mi sta pedinando l'ombra è la traccia che essere l'ombra di qualcuno quanto si è a riparo chi ci protegge può anche essere un'ombra di chi ci sta vicino scusatevi questa è cafonerietta ma il mio sito è www.comprato grazie a più molti allora quest'ombra che cosa è quest'ombra per Sandro Chia? ma penso che non sia così interessante cosa è per me era come ho detto era un meccanismo uno stratagemma per entrare in un gioco no? è un gioco di ombre perché è continuo questo gioco di ombre ma non può che essere così non è merito mio se l'ho rappresentato ho anche rischiato la banalità la tautologia la riproduzione di un qualcosa che già esiste è un'opera infatti se vogliamo di pop art cioè il mondo com'è no? è strano perché tu fai il disegno al ricalco che è una tecnica che usavano molti artisti della pop art ma nelle caverne l'uomo delle caverne faceva però una sensibilità completamente diversa perché c'è un modo di ricalcare con una scala uno a uno diciamo così e c'è un modo di ricalcare magnificando e in qualche modo anche prima parlavamo di Mario Diacono anche negli interventi pubblicati nella rivista O che noi abbiamo nella bacheca del materiale d'archivio Mario Diacono che in quel momento lavorava sull'idea dell'annullamento fosse anche della riduzione all'ombra fosse anche della messa in discussione per esempio come in questo caso credo del libro della parola come una destrutturazione di tutto ciò che era convenzione culturale insomma discorsi molto all'epoca però nei vostri lavori che facevate insieme in quegli anni c'è un'idea di ribaltamento che è invece la fonte creativa che è la diversità di Artaud che è la diversità di Borges poi non bisogna dimenticare che Diacono era stato il segretario di Ungaretti e poi insegnava all'università a Boston in America ed era molto vicino amico con lui ha lavorato ha fatto anche delle cose in comune con Vito Acconci con Vito Acconci e è tutta una generazione di artisti che in America sono vicini all'università cioè l'università è frequentata dagli artisti ed è il luogo dove gli artisti si riuniscono dove addirittura fanno i propri lavori no? e lavorano all'università e quindi lui portava un po' questa internazionalità e quindi era molto interessante lavorare con lui parlare con lui discutere con lui e il suo parere su quello che veniva fatto in termini di lavoro eccetera aveva molta importanza perché dava il il senso il sapore quasi l'odore di una cosa che sarebbe stato il momento successivo quello di uscire dalle cerchie daziarie italiane e quindi di andare là dove lui veniva lui veniva da Boston quindi uno si immaginava Boston chissà cos'è l'America l'università e faceva venire voglia di a un certo momento fare il salto no? e quando poi poco dopo è venuto il momento di fare questo salto uno come per esempio la differenza che c'è tra un individuo e l'altro quando questi individui vengono momentaneamente presi diciamo anche un po' ad esempio no? diacono ti parlava dell'America e ti faceva venire voglia di andare in America e anche questo è un altro aspetto interessante perché oggi è normalissimo prendere l'aereo viaggiare andare di qua andare di là all'epoca non era così normale non era così facile e l'informazione era ancora da persona a persona è chiaro che esisteva la possibilità di leggere però quando qualcuno te ne parlava era diverso cosa che si è completamente perduta adesso penso non esiste più no? questa tramandare passaparola è sempre passaparola che era una forma letteraria che viene a mancare sono molte cose che sono state all'epoca utilizzate proprio fino all'estremo fino allo spasimo tanti metodi anche di essere no? e poi distrutti cioè quindi la generazione che viene dopo si trova per certi versi svantaggiata perché noi abbiamo utilizzato fino al massimo fino all'esaurimento certi metodi certi procedimenti certe maniere di essere no? e poi le abbiamo dismesse no? ed è rimasto un vuoto nel quale poi si è inserito tutto l'impersonalità moderna l'allenazione che ora è reale prima se ne parlava c'erano i film di Antoioni l'incomunicabilità però non si faceva che comunicare la comunicabilità era molto erotica molto intensa e oggi che siamo nell'era della comunicazione probabilmente non c'è o almeno quella comunicazione lì penso che si sia istinta e noi siamo coloro che hanno le mani insanguinate perché l'abbiamo fatta fuori anche con lavori come questo pensi? siamo all'incontro internazionali d'arte Achille Bonitoliva invita Mario Diacono ad una conferenza perché è all'interno di un ciclo di conferenze dedicate ai critici Mario Diacono non va da solo si presenta con un gruppo di artisti lui sta tra il pubblico che legge questo libro che si chiama La vita quotidiana come rappresentazione di Erwin Goffman era un libro molto importante per quegli anni un sociologo un antropologo che parla di come una tesi di come tutto quello che facciamo è una sorta di rappresentazione uno spettacolo al servizio degli altri e fa una categoria precisa di comportamenti questo non basandolo sulla statistica cioè su un modo un po' freddo ma sull'osservazione diretta allora Mario se ne sta tra le persone del pubblico e gli artisti al suo posto agiscono tu hai due misteriosi pulsanti con i quali non si sa si chiamavano le perette quelle con cui si aggirano della luce io non mi ricordo se poi alla fine hanno funzionato perché mi piccai di far tutto da me no non vogli te però con quelle perette potevo spengere i microfoni o comunque l'altoparlante oppure fare un rumore se una cosa perché di scemenza le venivano dette a ruota libera o quelle che io ritenevo fossero scemenze quando c'era la scemenza facevo una certa cosa quando invece c'era una cosa che mi interessava era come una censura immediata ma una maniera di intervenire però poi non funziona niente ci fu un rumore molto strano improvviso ma tutto andò in cortocircuito vediamo se allora questa invece mi scuso questa è presa da una fotocopia perché forse non so l'archivio della salita è raggiungibile portato in Svizzera dall'erede di Liberani a me è rimasta questa fotocopia Liberani mi diceva che vi lasciava le chiavi della galleria facevate quasi una mossa dopo l'altra era una specie di studio dove esponevate il lavoro uno strano contrasto tra un signore un gentiluomo faentino e insomma questi giovani artisti che avevano assoluta no mi sembra un campo sì sì ma lui è sicuramente un gentleman molto però di che amava essere un po' violentato no avere questo contatto diretto con questi ragazzi scalmanati artisti eccetera e quindi ci permise di frequentare anche di notte la galleria eccetera un po' fu perché lo convincemmo un po' con le buone un po' però lui voleva fare questa cosa e lui a un certo momento si arlese e ci concesse di le chiavi questo si chiama direttamente qui proprio questo lavoro è copia abbiamo delle cartelline con dei fogli bianchi dentro e con una forse un riferimento all'apocalisse di San Giovanni sì che poi non è tanto l'apocalisse di San Giovanni quanto cioè leggevo nel disordine e nella non metabolizzata così gli effetti erano vari eccetera comunque leggevo Steiner no e l'apocalisse di Giovanni commentata da Steiner e lì trovai in questo libro alla fine una bibliografia ecco il libro era abbastanza smilzo poche pagine ma la bibliografia era tutto il resto cioè due terzi e questo mi sembra geniale no perché allora dissi vabbè allora prendo la bibliografia e infatti feci questo libro bibliografie tutta la bibliografia di relativa all'apocalisse no e radunata da Steiner che poi scrive tre paginate cioè poco e questa sproporzione mi piace molto quindi feci un po' una specie di giustizia no perché ho detto va bene se questo è il libro liberiamolo dal commento e lasciamolo e feci quest'altra cosa che poi c'era l'immagine del loro Boris del tempo circolare il libro anche questo è la collana la collana di perle di la galleria la salita anche quello si può vedere l'abbiamo molto sono felice di averlo di là nella bacheca e anche questa però tra la bibliografia e il testo un'altra diciamo contrasto piccola in qualche modo lotta che metti che metti in campo tra due cose che apparentemente non vanno d'accordo e tu vai a accogliere come quella in quel punto di incongruenza in qualche modo dunque intanto un'attenzione anche alla scrittura spesso accompagni i tuoi lavori con dei questo era un ciclo stilato che viene distribuito tra la salita è un altro intervento con con Mario Diacono questa volta siamo alla libreria arcana ti fasci una mano lasciando poi spuntare dalla mano fasciata una mano più piccola di metallo come un modellino credo fosse il discorso un po' era il periodo dello studio o ristudio o reinterpretazione del manierismo in quanto periodo storico dove per la prima volta l'artista si suicida dove perde il il committente canonico sia il papa che l'imperatore quindi l'artista per la prima volta è artista moderno cioè risponde a se stesso non ha committenti sceglie lui i propri soggetti è abbandonato a se stesso è libero certo però è anche abbandonato no? e si ha come fenomeno Lorenzo Lotto che si fa fuori eccetera eccetera cioè si inaugura il il l'arte alienata come se quella prima non fosse l'arte cioè c'è sempre stata una relazione però in questo momento diventa viene in primo piano è quasi il soggetto dell'arte no? e avevo letto un libro non mi ricordo di chi forse Hauser eccetera che analizza perché si chiama manierismo la maniera la maniera la mano dalla mano no? quindi la mano la manualità non più la mente lo spirito ma proprio la mano che poi mi faccia pensare come Adam's family questa mano che cammina cioè la mano senza più poi viene fuori il libro la mano amputata eccetera eccetera cioè questo organo con il quale facciamo un sacco di cose che ci distingue anche un po' dagli altri animali che non ce l'hanno la mano e quindi il manierismo quindi l'arte l'allenazione e pensavo con questo lavoro di applicare su di me no? e quindi la mia mano che è quella che mi serviva per fare le cose me la tengo in selbo la faccio e ne faccio uscire una più piccola tanto per quel che devo fare quella sera lì andava bene anche qui e me le tenevo e di ma qui era un modo di preservare preservare non di diciamo insomma di no non ero drammatico non ero drammatico era per dire questa è la mia mano fidati è sufficiente ecco posso fare una domanda più prosaica sul sul manierismo l'artista che risponde a se stesso la mancanza del committente l'impressione è proprio questa è prosaica come domanda no? tutti gli artisti che facevano questa scelta all'interno di un ambiente in cui non c'era un sistema artistico in cui si rispondeva a se stessi e a una piccola comunità che riconosceva come effetto come si andava avanti? ah la sopravvivenza? la sopravvivenza ma anche credere nel lavoro come ci si cioè guarda io credo che ecco Roma perché fu scelta come città di residenza no? da diversi artisti e da noi in particolare perché romani non ce n'era nessuno erano tutti venivano da fuori perché ecco a Roma di tante persone che conoscevo artisti e non artisti non ho mai saputo né ho mai chiesto né mi sarebbe mai stato detto come vivevano cioè è una cosa che può benissimo essere tralasciata in altri posti no ti dicono cosa fai che mestiere fai come vivi cioè però bene o male si infatti c'era Tanno Festa che diceva che eravamo la generazione del supplì no? perché c'era un posto dove facevano il supplì e quello era il pranzo no? il supplì al telefono quello con il filo e no questa è una buona questione però questo dimostra come il mondo proprio sia cambiato no? perché oggi non sarebbe possibile sopravvivere ma la vita era relativamente e l'artista era quello che un certo momento volevi avere a pranzo quindi ti invitavano a pranzo e c'era non so Luisa Spagnoli per esempio Luisa Spagnoli le convenzioniste ma persone che poi dopo ho saputo famose ricchissime eccetera eccetera cioè completamente sul versante opposto sociale di quello mio no? che però incontravi Giorgio Franchetti con Giorgio eravamo amici non sapevo che Giorgio Franchetti pensavo fosse uno come un altro invece poi la famiglia ha donato la Cadoro alla città di Urella cioè però non mi sembrava perché semplicemente era una persona con la quale potevo parlare in maniera forse più libera che con altri senza dover specificare passare da un argomento all'altro quindi un'elasticità una creatività mentale maggiore degli altri e apprezzavo questo e poi perché mi portava a mangiare e pagava lui cioè queste erano le due particolari poi il sacuto che è barone ma certo meglio così per lui una città generosa una città dove c'era non erano i collezionisti anche se Franchetti no si ridavano le carte e c'era in quel periodo si davano le carte no si mischiano le carte cioè quindi si mischiano le classi si mischiano i generi no tutte le distinzioni si mischiano quindi non se ne tiene più conto e poi si danno e ti può capitare dell'aristocratico che ti porta cioè ogni giorno viene ridistribuita viene data una tua carta e se ti esce quella di uscire con Luisa Spagnoli esce Luisa Spagnoli quando invece se non ci fosse questo reshuffling delle cose cioè ti toccherebbe andare a cena con uno che ha meno soldi di te e quindi sarebbe la fame a proposito di persone forse generose sì forse grazie alla Leonardo di Bontanio è un'altra poi c'era Francesca Dobrandini Francesca Dobrandini che era il proprietario credo del palazzo no e persona molto mite molto generosa anche no e che permise molte cose carità 70 milioni perdita contemporanea 300 milioni ma all'epoca 300 milioni erano una fortuna eh non c'è c'è e e Graziella e poi c'era cioè era un bellissimo gruppo di persone che mettevano a disposizione il loro il loro potere no sia economico sia di di relazioni se vogliamo anche politico per l'arte infatti questi incontri internazionali d'arte noi abbiamo diciamo abbiamo avuto la possibilità di presentare le proprie opere anche le più matte no e in virtù del fatto che esisteva questa istituzione retta pagata e organizzata da Francesco però dalla visionarità di Grazia e dalla cura di Achille Bonito Liva perché poi questi eh vabbè Achille Achille il tre di unione era colui che ci faceva scardinava la porta e noi entravamo questa è mappa 72 ogni sera si alterna un lavoro e tu presenti questo lavoro che veramente non siamo riusciti diciamo a capire ma questo era si chiamava quelli sono i cosiddetti visitatori no che si alternano a questo tavolo con un oggetto sospeso misterioso che è una fonte luminosa a parte che era nell'aria questo di fare le cose era refatte però credo che il titolo e c'era un'immagine la prima immagine in un certo senso dipinta cioè dipinta poi riprodotta neutralizzata desessualizzata dalla stampa però dipinta e che rappresentava un chiaro di luna sul mare il titolo era la conferenza imprevedibile paradosso della conferenza imprevedibile cioè dove e questa volta sì ma per il titolo era relata è relata infatti quella l'idea della luna c'è questo che poi mi 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 stati male dopo questa cosa perché c'era questa lampada solare sei tu seduto come no allora quindi quello non è un visitatore cioè tu sei di fronte come più no io volevo mettere un altro perché sapevo che faceva male vabbè è giustamente poi non ho trovato nessuno mi toccare di mettere vicino e quindi sei lì allora dunque e che succede cos'è quella cosa sospesa come c'è di sospesa no le ve lego male no vedi che c'è e quello sono io sì con gli occhiali da sole con gli occhiali da sole quelli speciali per salvare gli occhi e e quella è una lampada solare che vedi che sta lì e mi illumina ah quindi quella blanda bianca che vediamo no io sono sulla spiaggia ah tu sei ah certo non c'è niente non c'è niente di appeso e la stanza era questa e poi c'era questo manifesto che stava fuori col chiaro di luna col chiaro di luna che pubblichi nel libro intorno a sé intorno a sé ma dopo qualche anno ed era il paradosso della conferenza imprevedibile perché come può essere imprevedibile se una conferenza infatti può esserlo benissimo però nella mia mentalità mi sembrava se uno fa una conferenza dovrebbe avere un soggetto cioè un punto fermo una luce un riferimento un faro una luna no? e guardare quella e e parlare non come si fa ora cioè un po' a rota libera ma essere molto eh puntualizzato focalizzato su qualcosa io ero focalizzato questo siamo invece alla galleria schema di Firenze Dennis questo ce l'ha portata 72 il peso dell'anima praticamente ah sì 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 è una ah quello con i fiori sì la performance in cui in teoria con i fiori che poi gli mandai a Lucia Melio e si offese perché perché sono i fiori dei morti e mi disse cioè era molto molto arrabbiato perché lui era molto superstizioso io gli mandai questi fiori che sono i gigli cioè ah te mi vuoi cioè il male augurio infatti si toccava le zibitele tu lavoravi con Lucia Melio no? no ho lavorato con Lucia Melio ho fatto ma anche lui era un po' come Sergentini intanto facevano delle cose straordinarie e tutto a loro cioè Lucia in particolare con con sia con Sei Tuombli ma anche con Joseph Beuys ha imparato ha imparato il tedesco pur di di lavorare con 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 Beuys e a Napoli ha fatto dei lavori importantissimi e poi anche con Andy Warhol noi abbiamo conosciuto Andy Warhol Joseph Beuys sono state fatte in mano delle conferenze eccetera lì a Napoli e Lucia Melio era il il fautore di tutto questo l'organizzatore e il finanziatore trovava il produttore diciamo di questi eventi qui siamo invece di nuovo alla salita ed è anche questa è un'opera un po' misteriosa qui c'è sulla destra è appunto Liberani che si aggira incuriosito a quella un tipico atteggiamento proprio questa è una foto che lo rappresenta un po' perpresso un po' a distanza un po' discreto insomma lascia fare tu porti io sai com'è quest'opera è un attaccapanni e sotto l'attaccapanni nei vecchi attaccapanni c'era una vaschetta di zinco dove si 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 e lì c'era un'anguilla obbligata a stare dritta perché non poteva girarsi viva che lui disse dopo la terza che morì Liberani era molto arrabbiato diceva io non voglio che queste anguille mi muoiano in galleria però se le portava a casa se le faceva si le faceva e poi era lo stesso periodo del loro boros loro boros invece non è l'anguilla è un serpente piumato che si morde alla coda lei infatti l'idea era quella di confutare il tempo cioè il tempo che si chiude il serpente che si morde alla coda ma se gli impedisci di mordersi la coda è rettilineo va solo in una direzione e non si chiude non c'è questa chiusura cioè idee pazzesche però ecco fai una mostra al palazzo delle esposizioni con la giacomo sospende l'uovo che è da Piero della Francesca e tu dipingi di rosso una foglia d'accanto di uno dei capitelli veramente è uno come si chiama gli ovuli no quelli nel corinzio sì sì la decorazione quello centrale lui lo mette al centro che c'è sospeso però quello doveva essere fatto in comune lì avevamo una piccola disputa perché l'idea era quella di Piero della Francesca l'idea della morte cioè l'uovo sospeso però per sospendere un uovo lo devi devi smettere devi far sì che smetta di essere un uovo perché lo devi svuotare e io dicevo quello non è più un uovo se te lo svuoti cioè sì però come si fa a appendere appunto qual è il problema ci sono già gli uovi le uova gli ovuli stanno nella colonna perché stessa idea colui che ha inventato lo stile corinzio ha pensato all'uovo perché continuava ad essere una presenza inquietante formalmente all'uovo non ha mai smesso di inquietare è passato di simbologia eccetera eccetera quindi però se se ti riferisci all'uovo quello di gallina perché poi ci sono altre uova l'uovo di gallina deve essere quello bisogna che o lo riesci a farlo levitare come ha fatto Piero della Francesca oppure se te ci fai un buco eccetera è un artificio no non è un artificio l'arte è un artificio sì però in questo caso l'uovo già c'è quindi diciamo mettiamo le due cose te metti il tuo falso uovo su cui io non discuto è il tuo e io invece faccio e questo qui fu il nostro intervento in galleria invece ecco questo è uno dei primi esempi di pittura di disegnone figurativo ecco questo qui che è un omaggio a Donatello dunque ne abbiamo pensato al Verrocchio no ma non è il Verrocchio for Donatello però giustamente questo si spina a Donatello sì non è il Verrocchio no ma perché Donatello cioè anche Verrocchio ha delle caratteristiche interessanti ma la cosa che trovo in Donatello forse più significativa dal punto di vista di come si può immaginare l'arte no cioè è che Donatello che aveva come tutti i rinascimentali da Brunelleschi Masaccio aveva a disposizione il loro pensiero la loro precocezione era la Grecia la scultura greca per Donatello la scultura greca la scultura a cui avevano accesso era la copia romana della scultura greca quindi il periodo classico addirittura ellenistico cioè quindi tardo non c'era il Kuros non c'era l'Arcaismo non l'avevano mai visto allora Donatello io penso che a un certo momento intensificando il rapporto che aveva con questa classicità mediata perché non era l'originale era la copia quindi l'ombra il doppio eccetera eccetera e che è insoddisfacente in questa insoddisfazione è talmente insoddisfatto e trova talmente non rispondente ai suoi desideri artistici di essere artista questa copia di un originale il simbolo il simulacro eccetera eccetera che a un certo momento fa un arbitrio e mentalmente si immagina una cosa che lui non ha visto ma che è racchiusa è inclusa il Kuros è incluso in Pericle cioè se vogliamo c'è un passaggio possibile ma solo l'artista lo può fare quindi lui per esempio la Giuditta che è l'ultima opera giù di lì è un'opera arcaica e questo mi sembrava incredibile perché è veramente la dimostrazione che l'arte non la si può studiare come una storia ma è un sogno cioè è un sogno degli artisti cioè l'arte è il sogno degli artisti Donatello è artista perché sogna un arcaismo di cui non aveva nessuna notizia nessuna nozione ma attraverso l'intensificazione di quello che era l'ultimo l'ultima risultante no? la guarda così nel profondo che gli entra dentro e ci trova il Kuros che è all'origine no? e questo mi piaceva pensare non so anche a certi lavori Fredo Penone fa l'albero e poi lo scarnifica e trova la pianta originale il ritratto di fatto poi nel senso che una sorta di alter ego di mascheramento di certo è un suo autoritratto sì no sì volendo certo cioè il titolo era autoritratto ma io no infatti è autoritratto ma perché rappresento la mia condizione umana o la mia condizione artistica cioè il mio ego il mio essere artistico che non è rappresentabile se non facendo l'opera cioè non esisterebbe la pittura se l'artista non si ponesse di fronte alla tela come fosse uno specchio te puoi rappresentare un paesaggio ma sei te i paesaggi di Leonardo hanno la faccia di Leonardo somigliano più a lui ritengo che l'autoritratto no tutta l'arte è un autoritratto tutta la pittura è un autoritratto ed è un autoritratto anche dal punto di vista del del body art cioè perché la pittura ha a che fare con la lunghezza del tuo del tuo braccio con la tua con la tua ottica con tutto il sistema vitale anatomico le proporzioni è chiaro che se guardi Jackson Pollock vedi che è costruito per fare il dripping perché il suo corpo la maniera in cui si muove anche quando beve un bicchiere di vino per dire lo fa che in maniera che anatomicamente è la cosa più adatta per fare l'opera che lui fa no quindi se ecco ancora una volta intensificare l'osservazione entrare nelle cose estrarne il senso l'anima e è quello la cosa che poi vale la pena rappresentare no e questo è l'arte cioè che cosa era successo per avere coraggio a Roma di presentare la pittura nel 1973 ma nel 1973 è successo voi fate un'opera diciamo di carattere concettuale il giorno al palazzo esposizione il giorno dopo inaugurate la mostra la galleria la salita come una botta e risposta sì ma infatti quello che volevo dire dal punto di vista del diciamo anche del tema in considerazione del tema della serata questo degli anni 70 gli anni 70 a pensarci bene non esistono no perché sono in parte sono una continuazione degli anni 60 in parte dal 73 74 in poi sono una preparazione agli anni 80 cioè gli anni 80 cominciano nel 1974 75 finiscono nel 1985 stando agli eventi no sia se vogliamo interni all'arte sia di sociologia generale sia di 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 come va il mondo no l'atmosfera il clima mentale eh internazionale che 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 alleggia le cose che succedono cioè e e e quindi eh probabilmente era l'ora ma anche perché ero abbastanza fatto fuori eh dal punto di vista della della carriera artistica no che potevo permettermi di 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 essere folle di essere una cosa improponibile non avevo niente da difendere niente da proteggere quindi però avevo tutti i miei i miei ragionamenti le mie eh cioè anche le mie fobie no anche le cose che mi ossessionavano e e a un certo momento non avevo nessun interesse né necessità di tergiversare no potevo tanto non sarebbe interessato a nessuno fare esattamente quello che pensavo di fare quindi eh sono uscito così e l'ho scoperto a mio rischio e pericolo ma rischiavo niente l'opera descrivibile c'è un'altra una una nel ciclo stile che distribuisci in galleria per questa mostra parli anche di un rapporto insomma di indifferenza le parole non sono queste tra l'opera e lo spazio tu dici i quadri sono messi in questa maniera determinando il completo disinteresse per lo spazio intorno in un momento in cui si parlava ancora molto di arte ambientale una sorta di provocazione nella direzione di un'opera autonoma e come dire scollegata che fruttuava nel che fruttuava ma indipendente dallo spazio no ma era anche un 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 esplicito disinteresse e disprezzo per lo spazio che invece aveva assunto un'importanza quasi era diventata una superstizione le gallerie non si chiamavano più gallerie si chiamavano spazi no? te lo sai e e c'era l'arte dello spazio l'arte nello spazio cioè l'environment il e e quindi la performance la cosa che si consumava nello spazio anche se poi nel 24 ore su 24 in titolo il mio intervento e il tempo mi consuma lo spazio il mio amico si qui c'è un attore c'è uno scimpanzee un quadro di un di un amico no? che la mattina si di John Ratner non è 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 un altro un altro e però dipinto benissimo fatto benissimo e di mattina il il l'attore diceva entrava come fosse un visitatore diceva questo quadro mi piace mi piace moltissimo ah vorrei far qualsiasi cosa per questo quadro lo desidero sono pronto a pagare qualsiasi prezzo e poi si rotolava per terra e poi si metteva a piangere poi rideva c'è un attore bravissimo si 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 scannava davanti a questo quadro dicendo che amava molto questo quadro poi la sera la stessa persona diceva questo quadro fa schifo questo quadro è odioso questo quadro è terribile è sempre il contrario è sempre il contrario è sempre una cosa che succede in contrapposizione e scardina anche una però non toccava il quadro non sia nell'uno che nell'altro caso positivo o negativo il quadro restava immobile e intonso intoccato quindi era un assoluto a quel punto diventava un assoluto cosa che succede sempre no? perché di fronte all'opera d'arte anche nei musei ci mettono il vetro viene messo cioè nemmeno un bambino oppure solo un vandalo ma va a toccare un quadro il quadro non si tocca no? però si può dire anche delle cose molto forti sul quadro quello che succede ne dicono di tutti i colori che è bello che è brutto che non vale niente che costa un sacco di soldi cioè c'è tutta un'operazione una messa in scena il quadro ha la capacità di innescare una fenomenologia no? molto variata e anche più fenomenologia di diverso tipo economico eccetera senza cambiare senza che venga toccato senza che che venga nessuno osi staccarlo da dove si trova se non legittimo è un'entità distinta e separata e la possibilità di leggerlo e di interpretarlo in modi diversi come il lavoro 24 su 24 forse tutti sapete è una mostra che ha fatto Fabio Sargentini della durata di 4 giorni le performance le opere si succedevano nell'arco delle 24 ore e lì è divertente tra il pubblico vedere una Michelle Cunellis Emilio Prini sulla sinistra qui siamo da Tucci Russo ah sì questa è Torino l'impressione è che fra 75 e 76 questo credo fosse una mostra ispirata anche ad Apuleio all'asino d'oro probabilmente entra una componente dell'immaginario ancora una volta che siete a-si-no un gioco di parole positivo negativo negazione e si arriva attraverso questa introduzione credo vabbè banalizzo dell'immaginario questo elemento verso la pittura e credo intorno al 77 ci sono dei disegni se non sbaglio sparsi nello spazio eccoli questo c'è l'asinello ed intorno al 77 78 più o meno c'è un'altra mostra da Liverani nel 76 anche qui c'è un gioco di parole dalla stessa parola si compone si arriva credo forse al 78 che è il momento in cui c'è una mostra di soli quadri cioè non c'è più un apparato giustificativo no questo c'è Giorgione ecco che cosa è cambiato in questi anni perché a un certo punto si può esporre solo il no ma è una specie di corteggiamento non è chiaramente cioè bisogna essere molto prudenti anche nella nella strafottenza ci vuole molta prudenza perché altrimenti non ha non coglie il segno si trattava di in maniera morbida di fare di fare una curva di mandare il mondo un mondo intero verso un'altra direzione e non era sicuramente non era facile perché questo mondo era anche dentro di te cioè il peccato della pittura era seriamente sentito anche da chi avrebbe voluto praticarla però sentiva che non era il momento perché quando poi la pittura esce fuori non è più pittura è meta pittura è ciò che si può fare dopo aver traversato un deserto cioè è come dire mi mangio un piatto di spaghetti stasera che l'ho mangiato anche ieri sera oppure tra un mese perché non ho mangiato niente per un mese tra un mese quello stesso piatto di spaghetti ha un significato diverso ma capisci perché la variazione è certo perché c'è veramente l'attraversamento del deserto qui c'è una rifondazione dei termini come abbiamo visto primi primari del fare un quadro di fare l'arte di essere artista cioè riazzerando tutto risettando praticamente il terreno e poi riguadagnando a dosi minime no oculate e anche al momento giusto temporaneamente devono avere un senso no e quindi poterà distruggersi tutto perché è un un percorso di riappropriazione molto delicato di cui te che sei il fautore di cui sei il medico l'alchimista non sei certo perché non è che c'è una chiara strategia di quel che vuoi fare è sperimentale infatti l'arte è sperimentale nel senso che va riconquistata e questa riconquista deve essere significativa in tutte le sue tappe in tutti i suoi momenti e si fanno diverse mostre questo è come una marcia una specie di avvicinamento a una certa cosa ma mentre la si faceva probabilmente non sapevamo che la stavamo facendo c'era un desiderio era la politica del desiderio infatti si parlava all'epoca del desiderio c'era Deleuze Gattari Baudrillard eccetera eccetera erano le letture indigeste che facevamo all'epoca si è parlato appunto di una pittura che era come latente in certi casi inibita di una generazione precedente che magari la voleva fare però la inibiva la filtrava è una generazione nuova che fa un percorso e ci sono ecco due nomi che mi vengono in mente su queste due polarità generazionali da un lato mi viene in mente una certa sensibilità anche se come posso dire non meccanizzata ma controllata verso la carta il supporto la penna il foglietto per esempio di una lighiero Boetti che era a Roma proprio in quegli anni e dall'altra mi viene in mente e tutti sappiamo insomma lo diciamo fuori dai denti stiamo parlando della transavanguardia del momento in cui questo assume una forma critica per certi aspetti canonizzante anche di un gruppo che all'inizio è di sette persone e perché il primo articolo di Bonito Oliva fa sette nomi fra cui Remo Salvatori e Marco Bagnoli e gli altri cinque e poi questi due artisti escono quindi da un certo punto di vista sono come due polarità che cosa c'era nella generazione precedente che già portava verso la pittura e che cosa c'è invece nella generazione a cui appartiene che in ultima istanza non riesce o non vuole o decide di non partecipare a questo no penso che sia un po' forviante pensare che la pittura non esistesse è chiaro che c'era il pittore dal pittore della Domenica a Francis Bacon o a Sate era uno dei pittori al mondo c'era una pittura era ancora Picasso più o meno era ancora operante poi c'era se vogliamo Guttuso c'era un sacco pali di strada come forse Mario Schifano Mario Schifano c'era Roma c'era la pittura no non è che è chiaro Tano Festa con cui eravamo cioè non è che mancasse la pittura e quello che invece andava riconquistato è che la pittura bisognava toglierla di mano al pittore che non aveva mai smesso di dipingere e appropriarsene per fare altro perché la pittura era un po' come la guerra no è una cosa troppo seria per essere fatta dai generali la pittura è una cosa troppo intensa troppo importante per essere praticata dai pittori cioè deve esserci qualcuno una figura nuova che non è un pittore ma che fa la pittura chi è all'origine di questo non pittore addirittura fa la pittura in assenza di talento cioè Cezanne è uno che non sa dipingere cioè è uno che non però dipinge quindi questa sua pittura ha un valore che va oltre il talento no perché dipingere col talento non ci vuole niente Picasso che era formito di un talento straordinario e no prorompente ha dovuto dipingere con una mano legata dietro e quando si è inventato l'arte negra eccetera cioè ha come voluto punirsi praticare una cioè ancora una volta riscoprire diciamo un arcaismo no come Donatello cioè Donatello se vuoi è la stessa cosa l'arte africana era proprio questo un amputarsi e crearsi delle difficoltà nell'espressione no per castigare l'espressione ridurla il discorso viene ridotto alla fasia no allora questa pittura praticata da 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 un non pittore senza possibilmente senza talento e ha un valore più assoluto no perché significa allude a qualcosa d'altro non è più rappresentazione non è più l'espressione naturale l'impeto creativo eccetera eccetera non è più una cosa romantica ma ha la stessa valenza forse anche di più di un'opera concettuale perché è fatta con un'idea con l'idea concettuale non è la risultante di un impieto vitale ma è il prodotto di un ragionamento culturale assai disperato no che parte da un sogno mancato quello dell'azzeramento dell'espressione della tautologia della verità minima ma assoluta no una sedia è una sedia una rosa è una rosa e poi a un certo momento ti accorgi che non è vero perché una sedia per quanto sia è quella sedia e non ha nessuna analogia se non arbitraria con la fotografia della sedia senza poi parlare della definizione di sedia in quale lingua chi la dà questa definizione siamo nell'arbitrarietà quindi fallisce un discorso però guadagni qualcosa cosa l'arbitrarietà ma allora se se la verità non è così rappresentabile nemmeno alla alla sua semplicità più azzerata tanto vale che faccio un quadro ma io lo faccio col cielo marrone e la terra celeste cioè loro mescio ecco tutti qua cioè è un'altra cosa bisogna percepire quando si parla di ritorno alla pittura e tanti insistono non sanno di che cosa stiano parlando perché devi fare prima un lungo discorso breve ma preciso su che cosa significa la pittura in un certo momento e per chi perché la mia pittura è una cosa che riguarda me e so io come ci sono arrivato e so io che cosa intendo fare con la mia pittura altri hanno fatto un percorso ma si vede questo percorso è riconoscibile come si riconosce il kuros in prassitele cioè devi avere gli occhi per riconoscere questo non puoi parlare di scultura o di pittura senza riconoscerne una diciamo un cuore segreto un suo anche un suo rovescio un suo doppio una cosa che la che la nega e quindi la rende drammatica perché è una scelta dolorosa quella della pittura in un certo momento è una scelta anche contro te stesse le proprie convinzioni e così via e poi intraprendi una cosa una scuola cioè una tradizione perché la pittura non è come l'arte concettuale l'arte concettuale non ha tradizione anche la critica dell'arte non ha tradizione possono dire quello che vogliono tanto non devo rispondere ai padri fondatori ma la pittura no la pittura è una responsabilità notevole e c'è una storia quindi ecco l'operazione cioè che tutto quanto diventa estremamente più entri in una prateria dove in agguato ci sono delle delle nella notte vedi proprio gli occhi che ti guardano Leonardo cioè persone micidiali no a proposito di rapporto con il testo c'è sempre stato nell'opera descrivibile eccetera eccetera traslandolo traslandolo c'era tutta una generazione che era partita parallelamente a voi che aveva perso un rapporto di critica con la descrizione di un'opera gioco con le parole dell'opera descrizione che rapporto c'è fra la scrittura poniamo visto che stiamo parlando di questo ad esempio di Achille Bonito-Liva Achille Bonito-Liva dice l'arte è ad esempio questa è una preposizione una proposizione può cominciare in questo modo ma anche Ceylan o anche qualsiasi altro critico di quella generazione aveva sempre in mente un discorso globale sull'arte si perde una relazione molto spesso con l'opera puntuale che tipo di rapporto allora si crea fra la critica è completamente parallelo non c'è nessuna tangenza il rapporto con la critica è il rapporto che si è col pubblico cioè la critica è più vicina al pubblico per definizione sua è più vicina cioè il portavoce di una audience di un pubblico delle persone come non so nella cittadina greca il coro ha quella funzione mediana di commento oppure nel teatro gondoniano è quello che dice ah lui adesso entra la sua fidanzata cioè amica al pubblico però sta sul palcoscenico cioè questa funzione qui che è molto divertente sono più giocolieri dell'artista il critico è uno che fa divertire che ha la frase divertente il paradosso cioè i critici poi che hai menzionato sono dei campioni in questo sono veramente degli possono far divertire un pubblico in maniera sono dei professionisti in questo non c'è dubbio questo per dire che i rapporti come spesso succede in tanti specifici con l'opera i rapporti si sistemano si organizzano succedono quando le parti il gioco delle parti è efficace quando ha un diciamo un riconoscimento allora tutto quanto si sistema siccome si parla dell'arte si parla anche della critica e poi a te viene il problema che cosa succedeva tra le critiche e l'arte semplicemente era un gioco delle parti delle parti in un gioco che esisteva un gioco che grazie all'attenzione che la gente rivolgeva a questo gioco il gioco esisteva e esistendo aveva il potere di sistemare le parti all'interno del gioco per cui il critico faceva il proprio discorso era cosciente che veniva ascoltato non era nel vuoto l'artista faceva la propria opera e c'era un'attenzione incredibile su quello che avrebbe fatto sul prossimo quadro eccetera eccetera e poi poi c'era il negozio cioè viene fuori un'economia il gallerista poi il gallerista anche è stato estremamente importante nel sistema dell'arte anche il gallerista trovava un nuovo ruolo ma no ma noi negli anni 70 non c'era economia le gallerie erano delle associazioni culturali poi le casse d'asta avevano dei cataloghi di 10 pagine mettere un quadro all'asta era una vergogna ma come mai hai messo il quadro all'asta cosa ti è successo è morto qualcuno hai divorziato cioè non hai più soldi era un enigma oggi invece i cataloghi delle aste sono dei cataloghi che fanno invidia a quelli del museo non c'è museo che si possa fare e le aste vengono seguiti da tutti i giornali se si parlava di un'asta all'epoca eccetera era perché si diceva il signore è talmente fallito che ha messo anche i suoi quadri all'asta e quindi le gallerie sono diventate oggi se si va nella galleria ogni segretaria ha il suo computer tutto in minigonna vieni trattato malissimo a meno che tu non sia non abbia la pu... a buy appointment only noi devi avere l'appuntamento eccetera ma all'epoca invece quando entrava un visitatore li saltavano addosso la segretaria metteva i chiodi al muro lo spazzava per terra batteva la macchina cioè facevano tutti i mestieri cambiavano le lampadine ma questo dico da Leo Castelli a New York non Piemonti a Roma Piemonti è stato uno dei primi ad avere la galleria di lusso è certo non durò ma non durò molto però c'era una galleria è un visagista te? c'è un uomo c'è un visagista un? un visagista un visagista un visagista un giovane delle persone è un visagista ah un visagista che ti faccio si la prima volta lui come del lugo tutto quanto la prima volta che io sento finalmente queste cose mi sembra di vivere negli anni 70 ancora è vero come lo che tu hai detto io mi sembra di un giovane stasera farò un amore cento volte che ne so mi hanno organizzato mi hanno organizzato perché mi fai mi fai tanta giovane cioè io ho una certa età che lo sai che io come si dice banalmente non vestigio più il compleanno perché spendere più soldi spendere più soldi per le candeline che per la torta però lui mi ha creato questa sera un'energia perché ho fatto veramente delle cose con lui insieme a lui mi ha dato coraggio mi ha dato delle possibilità mi ha dato una forza praticamente ma a Gino quando fece quel lavoro della testina con è geniale una delle cose più belle fatte negli anni 70 che fu fatto con lui a macerata nel suo mi trovavo proprio per pronunciare mi toccava un cielo perché mi davano altre possibilità però ci portavano un po' di soldini poi ci facevano guidare la Porsche la Porsche e guardano piccoli poi mi ha fatto trovare una famigliare perché guardano un ciladino spero di proseguire questo dialogo e ringrazio moltissimo Sandro per tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti